Bells, jingle, bells, jingle all the way Benvenuti in questo nuovo video Che fa sempre parte della mia bellissima Christmas Challenge Sì, ho capelli legati perché sono a cagare E quindi ho deciso di mettermi il cerchietto Perché ogni tanto studo col cappello natalizio Mi vedete anche col cappello natalizio più avanti Però a volte quando ho i capelli che io non sono Come dico io infatti ho anche una forcina qua Perché mi sta crescendo la rasatura E fa alquanto freddino Quindi non mi va di rasarmi di buco i capelli Quindi mi sta facendo crescere Però dai, siamo monstri di topo Dovevo riilluminarsi, solo che le pide sono scariche Però spero di essere carina, dai Ho la farba che appunto perché fa freddo Allora siamo giunti All'altra puntata, scherzo Un altro video della mia Christmas Challenge Vabbè, un video al giorno per 25 giorni Tutto sotto in descrizione Allora, che cosa parleremo oggi? Allora, visto che ho notato E mi hanno fatto notare Che consiglio sempre film, telefilm Serie tv e Netflix A parte ciò non consiglio nient'altro Ho deciso di consigliarmi anche dei libri Perché leggere fa bene Cioè non è che fa bene a lessico Io leggo perché mi piace Ovviamente ultimamente non sto leggendo più tantissimo Di solito leggo di più Più che altro perché Sto notando che con gli occhiali ci vedo peggio E quindi Non so Ho qualche problema io agli occhi Non lo so nemmeno io Dovrò andare a rifare la vista poi oculistica Cioè nel senso vedo Ma le lenti Magari sono migliorata anche di vista Non lo so Solo che le lenti mi danno più fastidio che altro Gli occhiali Ovviamente le lenti le lascerò C'è la montatura Cambierò solo le lenti Procediamo con i video Allora Volevo farvi vedere direttamente i libri Ma purtroppo Sono totalmente stupida Che li ho lasciati in giro Alcuni sono incastrati Nell'impalcatura che ho creato Alcuni sono qua sopra Vabbè Comunque volevo consigliarvi Poi magari Ve li metterò in copertina In copertina non posso Perché faccio Gli sportelli come Nel calendario dell'avvento Quindi Vabbè Ve li nominerò Vi metterò sotto magari Il link con tutti i nomi Allora prima che consiglio È il punto Il libro di Shanti Live Che è una youtuber italiana Che si chiama Praticamente il libro Ce l'ho laggiù in fondo Se lo faccio vedere È veramente bello Il titolo preciso Non me lo ricordo Perché ho dei problemi Era meglio se i libri Me li prendevo Si chiama tipo La La casa delle farfalle Shanti mi picchierà Lo sto anche leggendo Vado Ultimamente ho The Blackout Ragazzi Capitemi Sta male Comunque Comunque lo sto leggendo Ed è veramente molto bello Non l'ho ancora finito Quindi non posso recensirlo Però ve lo consiglio Perché per ora Mi sta piacendo veramente tantissimo Però Nessuno spoiler Però è molto molto bello Ve lo consiglio È del punto Di una youtuber italiana E Veramente Mi sta piacendo E Alcune volte Mi porta a pensare A riflettere sulla vita Ma strano Un'altra lettura Che ho finito da poco Invece che Ho voluto prendere Perché mi piace tantissimo Che ce l'ho là È Prima di Agatha Christie Che è L'assassino sull'Oriente Express Si Leggo I titoli Perché ho dei problemi E Io ho visto ovviamente il film Ma avevo già letto il libro L'avevo letto in biblioteca Se non sbaglio E Ma sono voluto comprare Ve lo consiglio Perché Ho stato il libro Molto molto più descrittivo Ma ovviamente Tutti i libri sono più descrittivi Mi è piaciuto molto di più Rispetto al Al film Anche se Ho visto Anche se comunque È piccolino Non è Grandissimo Me lo immaginavo più grande Però Ve lo consiglio Come altro libro Invece Vi consiglio L'ho preso L'ho rubato No da mia sorella Non dito Io Di Nicola Sparks L'unico libro Che ho mai letto E mai leggero Che è trattato Il mio film preferito Alle pagine della nostra vita Ho dovuto rileggerlo E mi sono sorpreso Del fatto che È sottilissimo Cioè È così Cioè è veramente piccolo Sì ce l'ho sempre messo lì È veramente bellissimo Il libro L'ho trovato Molto molto bello Mi è venuto da piangere quasi Però è molto bello Molto romantico Mi è piaciuto Io leggo Tutti Varie tipi di libri Quindi Quindi Veramente Ve lo consiglio Di leggerlo Perché Il film è bello Ma io Sono sempre dell'idea Che a volte i libri Sono più belli Però un libro Che sia più brutto Del film Non l'ho ancora trovato Poi vi farò sapere Un altro libro Che ho letto Invece È È un po' Un po' più diverso Diciamo Che sto ancora leggendo Che mi ha regalato Il mio ragazzo È quello di Sempre dei Jack and Rowling Che sono Le fiave di Bede al Bardo Che Ci sto facendo anche Degli ASMR Se potete poi Vi li lascerò Da qualche parte Comunque c'è il canale ASMR Sotto in descrizione Potete andarlo A cercare E sono appunto Delle fiabe Che appaiono in Harry Potter E le sto leggendo Perché appunto Mi sto preparando Per l'SMR Quindi Essendo che io Non leggo molto bene Perché appunto Sono dislessica Quando faccio i video ASMR A volte È come se Mi imparo a memoria Le Diciamo le fiabe Per ora Ho letto Due o tre fiabe Giusto per Farmi un'idea Poi prima del video Di solito Ripeto sempre La stessa La stessa fiaba Prima di Leggerla Perché voglio Che comunque Si capisca bene Ve lo considero Che è molto carino Anche per i bambini C'è ovviamente La storia dei tre fratelli Che io l'ho presa Perché mi piaceva Ero curiosa Mi piaceva molto La storia Di come Sono nati I doni della morte E c'è stato appunto Un ASMR Che se fate Andarlo a vedere Sempre sotto Andarlo a vedere Poi a parte quello Che appunto Sto finendo di Leggerlo Nei vari ASMR Che poi farò Quando avrò tempo Perché appunto Devo leggere in modo Sono molto sussurrato Però devo leggere anche bene E avendo avuto Adesso c'è una voce Leggermente nasale Non è proprio il massimo Leggere ad alta voce Ovviamente I libri Non li leggo ad alta voce Poi un altro libro Che Diciamo Dovevo iniziare a leggerlo Però vi consiglio La lettura Perché comunque L'ho sfogliato Ma non l'ho ancora letto E praticamente Non è di Jacky Rowling Non è il libro ufficiale Però sono le ricette Sempre di Harry Potter Sono le ricette Che ci sono Nei vari film Nei vari libri Dove vengono uscite Tipo la burro birra Vengono uscite Di vari tipi di piatti Questa autrice Ha deciso di Scrivere questo libro Di ricette Di Harry Potter Ovviamente non è quello ufficiale Perché non l'ha scritto J.K. Rowling Però mi ha detto Mi ragazzo Ogni tanto Mi guardo Che ricetta strana Su come fare le cose Perché ho pensato Ho visto che comunque Non fanno più le fiere Purtroppo E quindi non posso Comprarmi la burro birra Alcune cose Le sto leggendo E anche quello È molto carino È tipo un libro Delle ricette alternativo Mettiamolo così Quindi Queste sono le letture Che vi consiglio Sì sono molto Molto leggere Non vi consiglio Di leggere Nelle odissea Nelle Le neide Queste cose qua Per chi sapesse cosa sono Un libro molto carino Che consiglio Se volete leggerlo Poi Potete anche non leggerlo Un libro ottimo Per andare a dormire E addormentarvi E addormentarvi È il simposo Di Platone L'ho letto Perché Ce l'avevo All'università Vi servirà Tanti Sì per dormire Una palla Allucinante Ce l'ho ancora Non ho mai finito Di leggere Sono sincera Ve lo sconsiglio Ti ve lo sconsiglio Per dormire Ve lo sconsiglio Per vivere Alcuni Magari Può piacere A me Sarà che ho Dei problemi Nel leggere Paroloni Ma è di una palla Allucinante Dove solo fare Questa cosa Comunque Ricapitolando Se vi ricordo I libri Allora Vi consiglio Primis Con il di Shanty Live Che Ne ho trovato solo uno Perché per ora Ne ho scritto solo una Poi C'è L'assassino Della lente Express Di Agatha Christie Nicholas Parks Le pagine Nostra vita Le fiave di Bedebardo J.K. Rowling E L'altro Che stavo dicendo Quello lì Delle ricette Non ufficiali Di Harry Potter Vibere Sele 5 Sì Ah Top 5 Posso fare Dai E questi sono I libri che sto leggendo Per ora C'è alcuni Ne ho già letti Però Le fiave di Bedebardo Veramente mi piacciono tantissimo Adesso Devo finire di leggermi Perché sono più o meno metà Del libro di Shanty Live Perché Lo sto leggendo un po' A Spezzoni Perché A volte riesco a leggere A volte no Per il semplice fatto Che magari Non so Io alterno Il leggere Alle serie tv Magari finisco Una serie tv E metto a leggere Qualche pagina Anche perché Tanto ho l'usanza Io di schermi a matita Delle annotazioni Sui libri Sì Ho dei problemi Però Mi piace fare così Poi Altre letture Adesso Vorrei in teoria Leggermi anche Un libro Che mi hanno regalato Che Non è qua Deve essere qua Allora Sì Che ho iniziato a leggerlo Poi non l'ho finito Però Ve lo dirò nel prossimo video Così siete curiosi Ho altri libri Che ho già letto E altri libri Che poi ve li consiglierò Più avanti Spero che questi Consigli Possano servire E non voglio fare video Troppo lunghi Perché comunque È una Christmas challenge Quindi Voglio Faccio sempre video Che non devono essere Meno di 15 minuti Ma mai Mai più di 15 Sennò Mi ammazzate E niente Vi saluto Vi metto sotto qua I titoli dei libri Anche gli autori Se ne riuscirò Se no non uccidetemi Niente Io vi auguro Dele buone feste E ci vediamo Nel prossimo video